le macchinine colorate e il disastro ferroviario le quattro macchinine se ne vanno a spasso tranquille ops! come non detto! oh no! la macchina nera ha spunto il camion fuoristrada! le nostre amiche si fermano per prestare soccorso il camion è pesante la macchinina verde tira sul camion così la macchinina gialla rimette la ruota al suo posto ecco fatto! il camion è di nuovo efficiente ma bisogna aiutarlo a rimettere i blocchi che ha perso nel suo cassone quanti sono? uno blu e uno verde due blocchi e sono già nel cassone eccoli! e poi uno giallo e uno rosso altri due blocchi in totale sono quattro blocchi eccoli tutti insieme nel cassone buon lavoro camion eccoli! 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 guardiamola! così non ce la faremo mai dobbiamo andare a prendere un bastone una fune da traino e una pala andiamo? un bastone una fune da traino una fune da traino e una pala la macchina gialla ha portato il carro attrezzi presto attacchiamo un'estremità della fune alla macchina nera e l'altra al carro attrezzi il bastone aiuterà le ruote a scavaltare il binario e con la pala cerchiamo di sollevare la macchina sta arrivando il treno e quindi sta in fretta macchinine presto! presto! vai! ancora! wow! appena in tempo il carro attrezzi porterà la macchina nera a ricavare ma con la promessa che non guiderà più in modo così spericolato macchinine abbiamo evitato un disastro ferroviario chi altro dovremo aiutare la prossima puntata? lo vedremo presto insieme! ciao! le macchinine colorate e la torta scomparsa passa la palla! blocca e lancia eccomi il calcio ma la palla deve ribalzare ogni volta sul tetto delle macchinine c'è una base di una torta ci sono delle briciole ma dov'è la torta? andiamo a cercarla tutti insieme? in mezzo alle palline colorate la macchinina gialla da una mano alla rossa e le altre cercano altrove no qui nessuna torta un pallone facciamo due tiri? mettiamolo con gli altri e continuiamo a cercare macchinina verde? forse è nascosta lì dentro? amiche venite presto spostiamo questi blocchi una alla volta forse nascondono la torta no niente in compenso stiamo mettendo in ordine i blocchi ecco più è ordinato e più sarà facile trovare la torta macchinina blu riesce a vederla dalla sopra? no! un momento sospendiamo le ricerche macchinine guardate i fiori sono appassiti hanno bisogno di acqua prendiamo gli annappiatori oh oh quanta sete questi fiori tornano a sorridere felici con i loro splendidi colori grazie macchinine ma della torta nessuna traccia oh guardate queste sono briciole e portano a questi blocchi verdi ehi macchinine postiamo i blocchi come formichine le nostre amiche stanno liberando l'ingresso della rivissa che sorpresa! la macchinina nera si era nascosta qui e c'è anche la torta è stata lei a prenderla non è la tua torta di compleanno non devi prendere le cose che non ti appartengono lo farai più? non la porterai più via? ti perdoniamo e la prossima sarà una puntata super divertente a presto! ciao!